Le prospettive per l'industria alimentare italiana sono critiche. La guerra in Ucraina ha portato i costi dell'energia e delle materie prime alle stelle. Una situazione difficile soprattutto per le aziende che hanno al centro della propria produzione i cereali, come Fiorentini, leader nella produzione nazionale di gallette e snack bio dal 1918, la prima ad aver introdotto in Europa la galletta di mais. C'è il rischio di interrompere le linee di produzione. Luca Perri è responsabile acquisti. Ucraina che è un paese produttore di moltissime materie prime, produttore ed esportatore di moltissime materie prime che riguardano il mondo dell'industria alimentare, l'olio di girasole in primis dove il paese produce l'80% delle quantità consumate a livello mondiale, ma anche il grano e anche il mais. Prodotti che verranno nel giro di brevissimo a mancare sul mercato e comporteranno il dirottamento della domanda di chi si approvvigionava in quell'area su altri mercati. La materia prima non è sicuramente sufficiente a soddisfare le domande di tutti e pertanto lo scompenso tra domanda e offerta fa sì che il prezzo salga inevitabilmente, ma a livelli insostenibili per l'industria. C'è un effetto domino su tutta la catena produttiva, che avrà riflessi anche su un arco temporale più lungo. Una mancanza che non è solo temporanea, ma che sicuramente si protrarrà almeno per il prossimo anno e mezzo, poiché per avere la merce disponibile al prossimo autunno bisognerebbe seminare in questi giorni, ma per cause di forza maggiori è evidente a tutti, non sarà possibile per gli ucraini fare questa cosa. Si tratta di un mix di fattori che mette in pericolo la continuità aziendale. Si rischia l'interruzione totale delle produzioni. Alcune aziende sono già in difficoltà, specialmente le aziende energivore. Fino a un anno fa un megawattora costava circa 60 euro. Dopo lo scoppio della guerra siamo arrivati a picchi di 350. Si tratta di aumenti folli per aziende energivore. Nel nostro, tra virgolette, piccolo consumiamo 15.000 megawattora all'anno di energia elettrica. Se si fa una differenza tra 350 e 60 euro e si moltiplicano per 15.000, l'aggravio è di diversi milioni di euro. Se parliamo di cifre talmente grandi che sono dei macigni sui bilanci aziendali. Sostituire un ingrediente significa cambiare la ricetta e quindi ristampare le confezioni. Il governo però ha autorizzato l'applicazione di etichette adesive così da poter usare gli stock di incarti. Simona Fiorentini, direttrice marketing ed export. Il Mise ha emesso una circolare per aiutare le aziende a superare questo momento di carenza di alcune materie prime, come l'olio di girasole, le cui scorte finiranno entro breve. Però dal momento che abbiamo tutti molti incarti e imballi già stampati riportando ingredientistiche diverse, anche andare a controetichettare ogni singolo imballo ha un costo notevole, per cui è sicuramente un intervento che aiuta ma non è risolutivo. Grazie a tutti.